Quello che ricordo da quando appunto mi alimentavo con carboidrati raffinati, quindi parliamo di diversi anni fa, ricordo dei picchi di umore che venivano seguiti da dei cali impressionanti, quindi la mia giornata era un saliscendi, quindi c'era l'euforia subito dopo aver mangiato qualcosa, il che mi portava poi a cercarla di nuovo e poi lo stato di non dico depressione ma di stanchezza, di spegnimento completo. Quello che invece mi è successo abbassando la quota di carboidrati e scegliendo appunto delle fonti sicuramente più naturali e meno raffinate è stata completamente un'efficienza mentale mai provata e a livello di umore soprattutto si ha un'euforia costante piuttosto che un saliscendi, quindi questa lucidità mentale, questa propensione anche a spingersi un po' oltre, ad avere sempre una riserva in più di energia appunto mi ha portato ad essere molto più soddisfatta di questa alimentazione piuttosto di quella che seguivo prima.